Continuano gli incontri tra gli advisor di Dan Friedkin e i legali di James Pallotta per il passaggio di proprietà della Roma. Gli emissari del magnate texano si trovano nella capitale per revisionare le 12 società che compongono l'universo giallorosso, uno degli ultimi passi prima della stesura dei contratti e delle conseguenti firme. Il prezzo per la cessione si aggira intorno ai 780 milioni netti, comprensivi di 272 milioni di debito e dei 130 di aumento di capitale già approvato dall'Assemblea degli azionisti. Nel caso di Friedkin si tratta di cifre irrisorie rispetto al suo patrimonio complessivo di 4,1 miliardi di dollari, a cui ha contribuito anche la distribuzione di auto a marchio Toyota in diversi stati americani. Le tante voci che vedevano Bale partire dal Real Madrid sono state smentite da fonte certa. L'agente del giocatore, Jonathan Barnett. Il procuratore ha infatti affermato ai microfoni di TalkSport. La maggior parte della gente non sa di cosa parla e mi dà fastidio. Gareth ha ancora due anni e mezzo di contratto, ha una moglie e tre figli, e si trovano bene a Madrid. Il gallese è al centro di Rumos di mercato da anni, ma sembra che non abbia la minima intenzione di lasciare la Spagna, anche perché, come spiega Barnett, Bale si sente una parte importante della squadra e la vita che lui e la sua famiglia si sono costruiti a Madrid lo appaga molto. Quindi un trasferimento è fuori discussione, almeno per ora. Perché, come ha dichiarato Barnett, fra due anni e mezzo finirà il suo contratto e decideremo cosa fare. Max Verstappen, 23 anni a settembre, ha già dato più volte prova del suo talento, ma questa volta ha dimostrato anche il suo lato più aggressivo lanciando una sfida a sei volte campione del mondo, Lewis Hamilton. È chiaro che in Formula 1 molto dipende dalla vettura che uno ha a disposizione. Lewis Hamilton è un pilota molto forte, uno dei migliori, però non è Dio e io posso batterlo. Forse Dio è con lui, ma lui non è Dio. Questo lo spirito competitivo con cui il pilota olandese si prepara ad affrontare il mondiale di Formula 1 2020, aggressivo ma preciso, con un obiettivo ben chiaro. Noi vogliamo sfidare la Mercedes e ritengo che questa volta ci siano le possibilità per farlo. Luciano Sparletti ha parlato così di uno dei suoi ex giocatori, Rajan Nainggolan. Non c'è stato niente di concreto. Però sarebbe una scelta di cuore andare a Firenze. Grazie, ma non faccio come lei che va a gufare gli altri. No, no, assolutamente. Ho detto che non voglio far le scarne a nessuno. Non ho bisogno di tutta la panchina io. Per cui sono a tentare di imparare a far meglio il mio lavoro perché poi il tempo va usato bene perché passa per non ripassare più. e se si usa bene ci sta di crescere, di sapere qualcosa da portare a supporto delle idee che abbiamo. Mister, Nainggolan sarebbe servito a questa Inter? Non lo so, queste non sono cose che mi vogliono. Nainggolan è un calciatore fortissimo. Però poi io faccio le scelte per quando sono allenatore di una squadra, non per quando non. La Spergeraltà sta iniziata attrazione di policiai. Yeah nous abbiamo trovato l'ultimoane buono. La Spergeraltà è una squadra, non per quando è arrivato l'ultimoanecone. La Spergerà è un'ultimoanecone. La Spergeraltà è un calciatore. La Spergeraltà è una squadra di uno processo Allora che si usa ora ci improviza là nonò se buttì gigantemente quello che abbiamo insompassato. Grazie.